no sto facendo sbattare il carburatore cazzo è pulita perfetta figaro e non sbotta neanche se mettere la mano sulla mia te la brucia non sbotta non sbottare il carburatore se non la uso per altri 6 mesi poi trovo di tutta la mea e dalla tua zona di caglio ma figaro c'è un carburatore così perché è mezz'ora che va e che cacchio e va bene e fa bene perché se non può dire